ciao a tutti benvenuti e bentornati sul canale oggi faccio un piccolo video video update dei miei portachiavi come sapete li colleziono come sapete ne ho tantissimi ormai ho iniziato una seconda scatola perché nella prima non ci stava più niente e ogni tanto ne compro ogni tanto ne vado a vedere su aliexpress eccetera e quindi adesso ve li faccio vedere questi sono gli ultimi che ho comprato nell'ultimo periodo negli ultimi mesi allora parto da un portachiavi pop it guardate che carino questo l'ho trovato a torino quando andavo a fare una di quelle visite che devo fare ogni tot c'erano delle bancarelle che vendevano oltre i pop it quelli grandi anche i portachiavi e ho detto ma sì compriamone uno venivano un euro e niente vediamo un po' come fa carino e niente ha pochi pallini ovviamente essendo piccolino però mi piaceva per il colore azzurro sfumato dal giallo e il rosso e questo è il primo poi in un negozio invece ho comprato questo che c'ha un lama con scritto i choose to be a unicorn ovvero ho scelto di essere un unicorno e a parte che mi piaceva il colore fucsia e poi era molto simpatico come era fatto e di gomma quindi una plastica gomma e niente mi piaceva un sacco perché sinceramente è proprio carino cioè con questo lama che come vedete fa finta di essere un unicorno e appunto ha scritto ho scelto di essere un unicorno e carino molto carino semplice bello grande però e ho detto sì dai voglio che fai parte della mia collezione anche questo l'ho pagato un euro quanto adoro quando trovo queste cose particolari un euro questo l'ho pagato un pochino di più ed è un po' particolare purtroppo non è neanche perfetto comunque è sempre di gomma plastica così e ha questa non so neanche come chiamarla tipo bambina matrioska sembra quasi una matrioska ma in realtà non è una matrioska è una bambolina bambina con il ferro di cavallo in mano e sotto c'è scritto good luck ovvero buona fortuna ed è un'immagine stampata su questa piastrina di plastica dietro c'è solo scritto made in italy e niente però mi piaceva perché è sicuramente particolare non ho mai visti fatti così con questo disegno quindi ho detto ma sì lo prendo questa costecchiava un po' di più perché l'ho pagata 2,50 euro quindi vabbè però ho detto ma sì prendiamolo poi se non sbaglio questo l'ho preso al mercato a un euro ed è il portachiavi di squid game quando c'è stata la serie sono spopolati ce n'erano di ogni tipo fatti così piatti 3d insomma tutti i tipi e io ho scelto questo con il cerchietto perché c'erano ovviamente quelli con il rettangolo e no scusate il triangolo e il quadrato e boh però non lo so mi piaceva questo è simpatico questo è fatto tipo in 3d quindi tutto così non è piatto e niente carino simpatico anche questo ho pagato un euro poi al mercato ho preso questo e l'ho pagato un euro e 50 però è bellissimo allora è un unicorno alato guardate che bello con tutti questi colori arcobaleno nel corno nel collo stavo dicendo color azzurro c'era rosa e giallo anche però ho detto basta con questo rosa era molto carino azzurro e quindi l'ho preso così e ha anche il laccio in plastica e ha sopra l'unicorno verde così con l'arcobaleno le stelline la luna eccetera e io l'ho trovato veramente molto carino molto bello e ho detto vai nella mia collezione sì molto molto carino poi tutto il resto arriva da Aliexpress allora è arrivato un M&M's era girati ok era troppo simpatico l'M&M's ho preso questo classico rosso se no c'erano anche gli altri però vabbè l'ho preso quello classico rosso perché mi piaceva e poi boh è simpatico fatto così come avete visto piatto poi ho preso questo che è il gufetto di Animal Crossing la femmina però non il maschietto e sinceramente me lo aspettavo meglio questo è un pezzo di plastica con una specie di immagine incollata che da questa parte sembra quasi plastificata ma in realtà dietro è proprio incollata quindi non è che mi piaccia tanto comunque dai è carino questo tra l'altro è arrivato tutto in una confezione poi natalizio ho preso questo che è arrivato non a Natale ovviamente se no ve l'avrei già fatto vedere ma molto dopo ed è un orsettino super cute con il pacchetto regalo in mano e il cappellino di Babbo Natale è arrivato tipo a gennaio inoltrato e niente è carino e quindi entrerà nella mia collection poi questo che mi fa impazzire quando li ho visti questi costicchiavano eh perché penso che siano una cioè una riproduzione di qualche marca l'ho amato quando l'ho visto guardate che bello è stupendo in più mi fa impazzire perché è gommato tipo quindi io vado pazza per le cose gommate cioè mi piacciono un sacco al tatto ed è bellissimo ha il laccettino in cuoio ah ma c'è una scritta non l'avevo neanche vista c'è scritto Advance Braverly quindi Advance Braverly no Bra Braverly non saprei però è bellissimo è un orsetto verde diciamo scuro così con le orecchie e il papione e il nasino dorati e come ho detto mi piace un sacco perché è velvet di questi qua ragazzi ce n'è tantissimi tipi sarebbero tutti da collezionare perché ce ne di bellissimi ce ne con le scritte ce ne ha colorati ce ne fluo ce ne particolari però come ho detto costicchiano nel senso che ok non costano 50 euro però comunque per essere quello che sono mi pare che li ho pagati 3-4 euro e sapete che sono un po' tirchia quindi non mi va di spendere magari 8 euro per prenderne 2 o 3 di questi però molto carino poi altro super carino è questo questo è un gattino della fortuna sembra quelli gattini cinesi, giapponesi c'è scritto Lucky quindi fortunato ed è un gattino troppo carino guardate dietro che ha la coda disegnata bellissimo anche questo c'era diversi colori ma io l'ho preso questo blu blu rosso e bianco è fatto così molto cute anche lui e poi per finire ho questo che è un po' che ce l'ho lì Dali Express in pratica mi piaceva un sacco il disegno è un colibri in questa specie di cosa di resina di vetro è un colibri diciamo insieme a dei fiori eccetera e insieme ai charms delle alucce delle ali del colibri mi piaceva e quindi ho detto ma si lo prendo ma è veramente tanto che ce l'ho sarà quasi un anno e non ve l'avevo ancora fatto vedere sono finiti qua i miei nuovi portachiavi che ho comprato che mi sono fatta arrivare dali express eccetera e io spero che vi siano piaciuti questo era un video così un po' breve spero che vi abbia tenuto compagnia come sempre se ancora non siete iscritti iscrivetevi al canale lasciatemi un like un commento qua sotto e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti